Il sistema federale dell'Andrangheta ricostruito dalla maxi operazione della procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria confluito nel processo mandamento ionico è stato definito con il rito ordinario dalla Corte di Cassazione che ha confermato 14 condanne a carico di altrettanti imputati giudicati colpevoli in sede d'appello. Disposto inoltre all'annullamento con rinvio per altri 12 imputati che dovranno comparire di nuovo in giudizio davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. La Corte ha poi rigettato il ricorso annullando senza rinvio nei confronti di Rocco Morabito perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Infine è stata annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Francesco Cataldo difeso dagli avvocati Taddei e Febbraio limitatamente alla quantificazione della pena inflitta che la Corte ridetermina in 20 anni di reclusione rispetto alla pena combinata in secondo grado che era stata di 25 anni. Sono stati dichiarati inammissibili il ricorso di Pasquale Aligi, Pasquale Barbaro, Attilio Giorgi, Giorgio Macri, Francesco Raschellà, Francesco Trimboli e Leonardo Ursino.